Ma che c***o stai facendo? Restauro casa! Ah, bella. Vabbè, signori, queste sono le due statuette che sarebbero delle cose speciali. E quindi ecco le cose speciali. E la terza è questa. E la quarta? È questo. Dovevi alzare la testa con gli c***o! Sì, ciao, ciao! Che invece... Da quando non ho più il Facebook, non... Signori, abbiamo le due statuette. Adesso te la ricordo. Aspetta, 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 adesso farla vedere. In pratica, abbiamo creato queste, insieme all'aiuto del Doc. E abbiamo le nostre statuette personali su microonde. Ed è bellissima sta cosa. Vero, Doc? E puoi dire come togliere l'overlay del nome su FederCline? Non so. Non si può togliere. Non lo sai, non lo metto. Quindi io... Ah! Eh, no, eh, non mi hanno pagato. Vabbè, signori, abbiamo le nostre statuette. Quindi Doc, tenga la sua. E sono, come dire, statuette speciali. Perché ti servono sempre la vita. Laggi. Come laggo? O sono io che laggo? Sì, come laggi. Sì, è vero, ho 128 di ping. Si nota! Eh, un attimo, sto riconoscendo. C'è solo... Ma sono deficiente io, scusa. E sto installando GTA mentre gioco a Minecraft, è vero? Ristema il ping. Ah, ma tu è il racconto. Ma... Facciamo la statuetta di The Rock. C'è anche la faccina sotto, che bello. Eh? Facciamola la statuetta con The Rock. Sì, ci sta! Facciamola la statua con The Rock versione pietra. Non lo so. Però non so come si fa quella roba. Credo sia fatta con Photoshop, questa. Sì. No, la puoi fare con Paint, in verità. Però... Puoi tapparmi casa. Ah, perché è ancora bello. È più bello, così. Fa passare meglio l'aria. No, 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 no. Ma... La ca... Scusa, la cosa del... Perché è buccata? Dai! Ah, fermo, inquisizione spagnola! Eeeh, inquisizione... Inquisizione di stacca. Eeeh, ai. Minchia. Eeeh. Ipi, ipi, ipi. Preso. Ah, scappa. Tu, 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 ru, 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 ru. Tu, ru, 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 ru. Su, serio, ti ho ammazzato senza armatura? Sì. Non mi fai rianimare? Scusa, la The Rock Sword. Eeeh. Va bene, spi, ciao. La The Suce Sword. Mi non è che non ho queste in mano, perché sennò avrebbero fatto... Wow. Evitiamo di distruggerli già stasera. Eh già, eh sì. Perché hanno un utilizzo solo, ragazzi. Eh sì, perché appena uno muore, questi qui, per dire... Sono il nostro cuore, diciamo. Ti salvano la vita, però... Però, 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 però... Loro fanno fuoco d'artificial style. Però c'è una cosa che non va bene, manca il pipo sulla crafting table. Aspetta, ve lo aggiungo io. Non c'ho voglia. Vai, salta. No, vai, salta. E la puoi fare. Una patata. Stocchi, io mi sono preparato per questo evento, perché... Sì, ma guardi che bello. Fa fuoco. Oggi abbiamo giocato un po', abbiamo farmato un po' di pane, perché veramente ogni volta in live dobbiamo fare casino. Io ho farmato i diamanti. Lo so, perché me ne hai dati un po' anche a me. Sì, perché se no non saremmo stati pronti per la spedizione. Sì, poi Tommy fa sempre... Ah sì, non dubbio. Stasera, spedizione russa. Inquisizione spagnola. Andiamo a confissare nuove terre. C'è solo un problema. Vale. Ho bisogno SilicTouch. E c'è un altro problema. Sappiamo dov'è l'America, quindi non possiamo trovare... Vabbè. Cioè, allora, ci sono due metodi per trovare l'America. Non cercare l'America. Quindi andiamo a cercare l'Islanda. È un buon metodo, sinceramente. E poi facciamo Cristoforo Colombo crossplay. Cristo Colombo. Cristombo. E poi sbogliamo e troviamo l'America. È l'unico metodo. Io non sto continuando a rubare il pane al tonno. Però in teoria dovrebbero essere pronti anche altri cibi più prelibati, doc. Patate? Venga con me. Le faccio fare un tour alla... La impatatiamo, doc. È bellissima la zona del Nether che ho creato, comunque. Eh, l'ho creata tutta io, grazie. Ma cosa? Che non hai fatto niente! Hai preso solo due materiali in croce. Che poi alla fine non ho nemmeno usato. Lo rimodellino in reale. Oh, forti un 3 a livello 30. Però mi conviene, forti un 3. Bisogna il lapis. Oh, ma scusa, viene un attimo qua, no? Uno, prendiamo la casa mia. Due, fermo. Guarda che cos'è che è pronto. Dai, vieni qua. Io fungo. Fuggisco. Se lui fuggiasca... Io fuggisco. E direi che c'è più cibo per me. Posso prendere questi? Aspetta però, se io uso... No, no, ciccio. Mi fai entrare l'acqua in casa. Ti tiro un pugno di quello che ti ricordi fino a domani. Che senso l'acqua in casa? Eh, perché c'è un torrente lì. Però comunque ti devo dare una cosa, vieni qua. Allora, prendo forti un 3, eh? Mi prendi forti un 3, va bene, però vieni qua. Mi servono un livello e mezzo. Ma che la posso ammazzare? Mi serve un livello e mezzo, dai! Ah, prendi le patate che sono a cuocere nella fornace, scusa. È vero. Aspetta che siano pronte, sono 24, ma le devi ridare, eh? Dai, mannaggia a te! Tranquillo, adesso tappo tutto. Perché mi tocca chiamare l'idraulico? Questo qui prende 20 euro all'ora. Così pochi, poverino. È un laberro. Porco! Non riuscirò mai a fare un livello, vero? Vieni a prendere le patate nella fornace. Ho detto. Ah, se no... Aspetta, eh? Farle cuocere. Ok, dammi 15 patate. Le patate! Patatose del doc! Sì, ragazzi, la droga non fa bene. E questo ve lo dimostra. Baby! I'm baby! Vieni! Eh, doc? Ah, ho trovato una nuova bevanda. Il cocco? Sì, prendi. Il cocco bianco. No, no, no. Non ho spazio. Com'è che si faceva l'alambicco? Brewing Stand. Lo posso fare? Brewing Stand. Stocca, andiamola a mettere di là. Andiamo a fare delle cose belle. Io ho bisogno di un livello. Prendi le patate. Unica sabì. Eh, mi serve ancora di XP. Ci posso mettere la Neverworld. Oh, possiamo fare le pozioni di debolezza, però, volendo. Sei spastico o hai problemi? No, sto aspettando a che tu venga qua. E ti voglio picchiare. Facciami da lontano. Questi cest così distanti non mi piacciono. Io farei un magazzino. Un magazzino? E lo faccio dalla tua parte. Magazzino del pollo. Ah, io sto facendo il magazzino dalla tua parte. No. Sì, dai, poi lo abbelliamo. No, Doc, no. Sì, ma non danno neanche un po' di XP, cavalli. Mi puoi dare le patate, Doc? Ma te le ho droppate dentro, fuori dalla fornaccia, sarà bene sponate. Ah, no, in realtà non sono andata qua a comprovare. Ti puoi salvare. In realtà no, perché li stavo caricando io e c'è anche, quindi è impossibile. Ok, perfetto. Non riesco a trovare dei mob. L'unica è andare ad ammazzare i pigmen. Ma vai nello spawner, no? Ci c'è. Sponono ogni tre anni. Allora facciamo una mob farm al volo. Servono 5 trapdoor e tanti piglin. Allora faccio arrabbiare i piglin, li faccio cadere in un buco. Prendi un po' di trap. Ah, shit. Here we go again. Porca puttata, mi sono salvato come un... Non lo so. E lo così salvo sempre. Non tenere la statuetta in mano perché ti risurda. No, no, la tengo nell'inventario. La sul setta. Ma usiamo solo le carce estremi. Dovremmo portarci un letto per prenderci lo spawn point. Io vorrei fare un bel viaggio. Dove lo vediamo. Che ritorniamo la prossima volta a casa. Non ci torneremo mai a casa, dog. Beh, se troviamo l'America, noi. Troviamo la Robustia, dog. Cosa hai detto? Scusa, cosa troviamo? Proviamo. Ciao, Matti. Cos'è che troviamo? Cosa puttana? Troviamo Amanda la puttana. No, guarda la si trova easy. Basta iniziare a chiamare. Amanda! Eh, devi chiedergli anche cosa deve fare. Un bel bambino, diversamente. Comunque c'era uno stack. Un piscirello. Non te lo vorrei dire, ma c'è tipo uno stack di... Preso. Sono Steam nel coso, no? Nel coso? Il coso, doc. Il coso che non sia vincuto. Volevo già un app, ma ti sei salvato con il waterbuck. Ed è... Ha visto che bravo che sono. Mi serve il livello 30. Voglio fare un albero. Ci vuole la legna. Che fa la legna. Matti, comunque ho visto su Discord che mi hai scritto. Ti ho risposto, non so se hai letto. Comunque non c'ero perché avevo gente a casa. Però doc. Vabbè, vuole doc e... Coso. Il coso avevo. Il cilevo. Il pippo di Amanda. Non gli soci. Il pippo mandoso. Vedo mob. Forse riesco a farmi gli XP che mi serve. No, mi serve a me l'XP. Brutto stronti. No, me ne manca ancora. Creeper. E non è abbastanza. L'ho letto, ho visto, ok? Ragno. E non è ancora abbastanza. Manca... Doc, manca una tacca. Di segnale capita. Lo so, anche a me. A volte mi neanche a volte. Di segnale. Eh, non ci si può fare niente. Dovrebbe darmi lo sti zombie. Perfetto. 0,8 cosa segni? Scusami. Se non capisco il tuo... Vuol dire 0,8. In inglese scorreggiuto. E' italiano corregiuto. Bello. Eh, cos'hai detto? Un naga. Non ho capito. Vede meglio così. Dai, ma non ho i stick. Uffa. Stai giocando e streamando da Minecraft da PC portatile ho fisso. Guarda, non ho neanche un fisso a casa. Sto sempre con il mio portatile. Fa tutto dal fisco. Vedendo in webcam, è sempre lì. Collegato allo schermo. Dipende. Non sempre è confuso e collegato allo schermo. Perché se prendi e lo tiri di sotto dalla finestra... Ah, guarda, il cavo è abbastanza lungo. Sennò utilizzo la prolunga. Eh, doc. Che belle le battute sporche. Pierino cade nel fango. Ah, mi ha detto. E' un po' che sto facendo un macchenzino bello nel blocchere. Forse si sente un po' troppo la tastiera. Dovevo prenderla con gli switch brown. Per ora, per ora... Tu hai tre cassi e ne ho tre. Uh, tre cassi ha detto. Pazzo, il pazzo furioso doccoso. Tre diamanti che utilizziamo per fare un nuovo piccone. Sperandomi vada bene. Comunque dovremmo migliorare l'entrata giù, eh? Sì. Infatti io ho già tutto pronto per fare gli ascensori. E? E? Sì? Se vuoi si può fare una linea ferroviaria. Ah, innanzitutto... Guarda lì che parte il suo pc portatile. Ho fatto quasi una rima o una nera rima. Ecco, quale rima. Ok, no, no. Beh, la grella dice bene. Capita ragazzi. Su, cazzo, cazzo. Ok, no, vedi. Vicenzi quattro. Eh, però se non mi dai... What the fuck? Non ci credo. E come? Dove siete? Ho preso un piccone migliore di quello che avevo prima, però... Non mi serve a niente. Io ho bisogno Silk Touch. Dove sei? Vabbè, ho un Unbreaking 3, Vicenzi quattro e Fortion 3. Va bene. Sdoc, sdoc, sdoc. Venga con me, le faccio vedere il magazzino. Non finito, però dai, carino. L'ho già visto, l'ho già visto. Ti piace? No, e anche questa cesta è molto buggata, è aperta. Ok, ora è finita. Dai, però è carino. No. Fa schifo. Com'è che lo miglioreresti? Quindi avevi gente a casa prima di andare in live? Eh, sì, è andato via verso... Prima di cena, proprio. L'ho mangiato e poi sono andato in live. C'era Andre, che poi non lo vedo più per due settimane. Per quello. L'ho sentito almeno. Così. Allora, io mi prendo questo piccone e lo rendiamo quasi finale. Commending, Doc! Il piccone con Mending! Allora, a me mi serve la... E lo lasciamo qua dentro perché rischiamo di perderlo. Doc, possiamo andare ad esplorare? Non ancora, io devo affinire una cosa. L'unica cosa, se volessimo l'ender chest, non possiamo prenderla. Eh, adesso... Non possiamo. Prendiamo l'ultimo cibo? Sì. Allora, tipo, io faccio così. Non l'ho visto, tanto. Ok. E poi ci mettono, non lo so. Durudu, durudu. Ah, no. Durudu, doc. Sì, non ti metto il v-sync, dai. No, con il v-sync va a 100... Perché si blocca a 160. Se Monica tu era a 240. Allora mettiamo 255. E si blocca lo stesso. Però se faccio così, lui va oltre. Lui è speciale. Doc, sto migliorando il magazzino. Ma che bravo, il Doc. Dic Doc, eh? Beh, però almeno abbiamo magazzino così. Vorrei mettere anche le fornaci, eh. Io metterei le patate. Dai, facciamo una cosa se... Io devo ancora finire cazzo. Allora, qua prendiamo il grano. Ok. Ce l'ho, sì. Dov'è che c'è un po' di co... Grano, grano, grano. Grano. Velo come io, sto cuocendo la pizza, ma... Sto cuocendo la... La stone, ma... Tu cuocci le pizze, io cuocci i bambini. Sto cuocendo la stone, ma secondo la texture di M sto cuocendo la cosa. Pizza. La pizza. Naboli, signori, Naboli. E' che si fa il Grimardè... Non il Grimardè, no. Quello schifo di robo. Dovrai avere abbastanza cibo. Dai, che lo sai, come si fa il... Lo stonecutter, vedi? Stonecutter... Boh... Non ricordo più. Ecco, lo stonecutter. 3 di stone, servono. Vieni un attimo qua. Sai cosa ti regalo? Due di tirano. Vai a vedere se ti piace il magazzino. Ah no, invece qua c'è un altro di grano che rubo per finire l'ultimo panino. Ovviamente va sistemato con i bricks, guarda. Wow. Wow, non so cosa farci. Credo che ci farò qualcosa in stanza mia. Vabbè, vieni qua. Perché devi dissimilare le riviste? Hai ragione. Tappiamo, così si vede meglio. Infatti, adesso è meglio. Ci vuole anche il tocco di classe, andiamo. Vabbè. Vabbè. I meno colte, no. Vieni qua. Dove? Eh, dal bunker. Genio. Patate. Allora, guarda. La mia idea è di farlo con la deep slate bricks. Dai, Gianluia. Sì. Allora, le casse, boh, vediamo poi come sistemarci. Anche di abbellimento. Dietro andrà anche fatto. Sì, sì. Sto cuocendo questa, la cobbled deep slate per fare la deep slate e per fare i bricks che sono questi. Aspetta. Non le posso fare! Perché non... Come si fa? Prendere le cutter. Non ho capito cosa che vuoi fare. Vabbè. I bricks, quelli mattoncini di deep slate. Dammi. Eh, c'è lo stone cutter, dai. Vado a prendere. Non serve lo stone cutter. Come no? Non serve, dammi. Aspetta. Madonna. Ah, no, invece sì, ciccio, per fare i bricks. Dammi lo stone... Dammi. Ah! Meglio che la sto cuocendo. Stavo facendo la cosa. Vabbè. Tocca. Sfruttiamo... Sfruttiamo la deep slate cotta. Sfruttiamo la deep slate cotta per fare quella cosa bella. Ovvero? La... Quella... Guarda... No, non so come farti capire qual è. Vabbè. La faccia e te la faccio vedere. Questa! Ma no, basta! Non devo cuocere la deep slate, inutile. Mi sono reso conto adesso. Vabbè, la dovremmo ridistrugge. Vieni qua. Guarda un po' questa. Porca. Tocca. Beh, che brutta! No? Va bene. Ma fai quella... Fai quell'altra che è un po' più simile. Secondo, è che c'è da... Ce l'hai con di ferro? Dammi quattro bricks. Dammi quattro bricks. Quattro e lui mi ne da venti. Questa fai semmai, guarda. Questa è più bella. Eh? Sì? Secondo me, eh? Metto via la mappa. Allora, come... Tipo... Zio Gianfranco. Io prendo il ventilatore e me lo metto ne... A caso. Eh sì. Bruma è bellissima con la texture di M. Sporro l'aria nel sedere. Non puoi capire che goduri avere l'aria in... Non meno. È arieggiato. Beh, niente. Inizio c'è la sua... Devo rismontare le ceste. L'arizzazione. No? Oggi no. Voglio rimanere per sempre a 69. Doc, andiamo ad esplorare. Doc, ti venga a vedere com'è bello. Dove? Ma cazzina, è bellissimo. Guarda. Adesso io ti ammazzo. Perché? Ah, è stato, lo so. Non è simmetrico. Non è quello. Adesso. Ti ammazzo per due. Perché? Le lanterne non sono simmetriche. Ma dai, adesso lo sistemiamo ancora in fase di building. 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 Buffalo building. Ding. Oddio, sai che anche mischiato con la pietra fa tutti i suoi effetti con la texture? Sì, si può fare, si può valutare. Tu lo vedi, no? Che è mezzo deep slate, è mezza pietra, no? No dai, ho la stessa texture. Eh, non so, magari è ribuggato. No, non più, mi dispiace. Guardi cosa ho in mano. Eh, guarda che cosa ho io. È il mio più bello. No, perché si glitch ha la testa. Infatti è per quello che è più bello, guarda. Adesso ti glitch, guarda. Eh, allora se... Devi glitcharti. Ah, glitch. Glitchati. Sono griffato. Capito? Adesso ti glitcho. Guarda che ho in testa. Come ho fatto? Ah, poi i comandi. Oh no! Troppo. No, non posso, perché non ho i permessi. Perché? I suoi! I suoi le paure, io mi interro! Slash e sus, command, hunk no. Oddio, ma Mattia mi ha scritto un papiro. in chat. Quando tu metterai il pulsante abbonati sul tuo canale e ti dici mi piacerebbe tanto cioè vorrei essere un sabb... Cioè io, lui, eh doc, ascolti bene lui, ha capito che quello è la scrittura, ma non so se tu metterai... Tu ora lascerai il canale così. Io ho capito. Ma non ho l'affiliato. Quello è il problema. Io lo metterei anche. Ma non ho l'affiliato. Ho bisogno di tre expect medi. Affiliati! Non ho i tre expect medi. I 50 follower li ho. Le 20... 8... 7 ore di visualizzazione ce le ho. Affilo io! Aspettati, vi faccio vedere il riepilogo del canale. Ma basta, ho mezzo qua! E ti ho affilato, scusa. Dio... Dio, dio, c***o! Mi hai detto, non l'ho affilato. Io ti ho affilato. Su, ti affilo. Io ho la mamma. Nooo! Dai! Trurururur! Ero ancora a terra per un secondo. Doc, si è glicciato il vetro. Che c***o... Andrò... No, per fortuna. Vabbè, lasciamolo così il vetro, va? Ah, no! Allora... No, non più una scena, ma... Ti vuol dire affilare. Ah, guardate. Qua, tanto c'è Minecraft con il doc. Se noi andiamo a vedere su... Bello, che mi trovo le puttane davanti appena avrò Twitch. Se noi andiamo su... Community... No. Dov'è? Aia! Ah, no, sei tu. Obiettivi, ecco, vedete. Come diventare affiliato. Follower raggiunti, ce li ho. Le ore ne ho in abbondanza. Trasmetti per i giorni ne ho il doppio, ma... Saranno... Eh, tre medi. E io ne ho 1.98! A parte che c'ho già anche due su tre per il partner. Che sarebbe... Ah, bisognerebbe fare... 75 spect. Per il partner è tantissimo. E questo era. 0,7 blocchi da me. Quella è molto più vicina a me. Ce l'ha tra... Ah, no. Se io ho 1.8 blocchi da me. Solo a terra. Riamimi, per favore. Ma c'hai una mod di... Feather? Sì. E il problema è che funziona solo quando si picchio. E funziona tipo per 2-3 secondi, quindi... Andiamo in esplorazione, Doc. Sì, un secondo che spengo sta mod del ca... Fermo però prima. Io devo fare una cosa. Appendo... Appendo... L'armatura... Doc. Collo. Al cu... La f... Madonna! Madonna! È la stessa cosa che hai detto a te l'altro, c'è un film, non mi puoi dire niente. Madonna! Però c'era scritto D, c'era anche la O e c'era anche la C. No, 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 vabbè, però anche tu sei proprio la best persona che non sa leggere, eh. Allora, io vorrei andare in esplorazione verso questa zona, Doc, venga su. Aspetta! Come si fa l'armor stand? Ah, devo ricuocere la stone. Ti ho detto vieni su. Doc, io ho studiato in pipologia. Dove sei tu? Ciao! Non mi ha scrottacciato il legno che l'ho... Tommy. È Tommy, ti ho detto! È bello! Quindi dovresti raggiungere un minimo di tre spec per poter... No, allora, i tre spec li ho già raggiunti, anche cinque. Dovrebbe essere tipo la media di tutte le live pari a tre. Beh, allora, 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 allora... Doc, lei è laureato in pipologia. No, però si pagano i botti di anni per questo. Quelli che fanno... Doc, io mi metto la nostra statuetta in seconda mano e possiamo andare. Eh, scusa, cosa hai detto la nostra? Tutururur... No, però aspetta, ciccio, io non ho ancora finito. Dai, torna qua, non iniziamo. Ciccio, dobbiamo partire. Eh, io parto, un attimo, devo fare la cosa però, l'armatura nuova. Ma come? Ma l'avevi fatta ieri. Ah, ok, eh. No, era quello del tonno. Ah. Tommy si incazzerà tantissimo se guarda la live. E cazzi suoi. Lui mi aveva dichiarato guerra e io l'ho sconfitto. Posso nuotare in maniera stupida, sì. Che cazzo? Come sto nuotando. Doc, venga. L'obiettivo sarebbe magari trovare un villaggio. Un pollo, Doc. Un pollo! Allora, ne ho un po' io. Io sto già andando da tre anni, eh. No, ma aspetta, oh! Fermati, dai, però, ti ero detto se aspettarci, tu parti, ti già. Bro. Mi dai, tu a coordinarti. Mi sono al parco che faceva speed round. Ti puoi fermare in un punto ad aspettarmi. Dove c'è coordinate, muoviti. Eh, meno 86, 3, 47. Aspetta. Dov'è la mod di Wii? Why, point. È rotta la mod. Aspetta, eh. La mucca. Fa mucca. È una pa. Ok, dai, dammi le coordinate. Te l'ho scritta in chat. Dai, che pad. Meno 100, altezza magari anche. Ciccio, ciccio che... C'è una volta, ragazzi. Potresti dare anche l'altezza. Ma ti è la sua comicità. 69. Serio? Lo si picchio. Anzi, ora sono l'altezza 69. Sei a 200 metri, aspettami lì. Tra 200 metri, tirare a sinistra. Alla quarta è rotonda. Lì, ma sono qua! Ma scusa, io le cercavo da mesi, perché... Ah. Dai, voglio un salmone. Non voglio un salmone. Io voglio cod. Ho preso il cod. Eh, vabbè, l'automod si è ancora rotto. Ah, io ho preso le cap, così possiamo fare l'ascensore per la base. Ah, scensiamo, docca. Scensiamo. In maniera che non dobbiamo metterci 20 anni, perché bisogna andare a prendere... Ma scusa, noi avevamo il mare a 3 metri e te l'ho mai detto che non sapevi dove andare. Il mare a 3 metri e non mi ha detto che non sapevi dove andare al mare. Mi ha detto, eh, che ne so io dove è il mare. Io sono solo uomo di terra, russia, madre russia. Cioè, scusa. Per te siamo più o meno circondati dal mare, cioè, nel senso, poi ti spiego. Poi, cioè, nel senso, no, adesso, perché non è una cosa segreta. Quindi dove sei? Nel tempo. Ah, eccoti. Sono sopra l'albero dietro di te. Qua, sopra di te. Guarda che cos'ho, io ho il secchio del code. Code? No, il mio code, dammi il code, metti il code. Ecco, andiamo a giocare a Call of Duty, doc, dai, andiamo. Metti il code, dai. Andiamo a giocare a Call of Duty, vieni. Che meno, se no mi dai il code. Muoviti, andiamo, dai. Dai, il mio code, vai il code. Prendiamo le zucche. Sì, anche perché io... Prendile tu perché ho finito, lascia io. Eh, lasciala aperte. Però le tieni te le zucche, vieni. No, le tieni niente. Ma mi è andata a sette. Prendile tu, te. No. Per ruolare le zucche, le lasciamo qua. Oh, la montagna. Doc, ma lei li vede già lì, gli alberi, vero? Sì. No, perché c'era un bug, ti ricordi l'altra volta che li vedevi? Ah, sì. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. La prima sella è mia. Che cazzo c'entra? Eh, speriamo di l'altro. La faffallina! Faffallina! Vok, fa una faffallina. Vov'è la faffallina, Vok? Vroom, vroom, la faffallina. Helicopter, helicopter! Si possono prendere le api con il binzaglio? Mmm, sì. Mi aspetti qua. Ma questa è una pecigia. Che carina. Code doc, perché doc uguale a code, è il contrario, esatto. Mi aspetti qua, vado a prendere il binzaglio. Dai, aspetta qui. Mattia ha capito tutto. Vado a prendere un binzaglio. No, Mattia non l'aspetto, glielo dico già. Se non viene adesso, non mi trova più. Ma dopo mi dai le api con il binzaglio. Guarda che bello il contrasto tra le foglie di qua e le foglie di là. Sembra autunno qua. Prendo un binzaglio anche per te, adesso che ci piove. Peccato che non carica più di 10 chunk. Il server. Però non mi far desponare la faffalina perché ti picchio. Ah, io me ne sono andato. E beh dai, te l'abbono e vengo con te. Mi abboni? A che canale? Al Murat. No, vedi. Ah, ma stasera ci sei già abbonato. Da dove? Da Fortnite. Da? Fortnite. Che cazzo. Dalla Nintendo Swish. Ah, la Swish di Filmora. La transition di Filmora. Quella che fa... E se è andato tutto dritto? Sono... Meno 5, meno 2,40. Meno 500, eh. Poi meno 5, ciao ma quanto corri? Eh, un pochino. Capito. Meno 500, meno 200. Preciso. No, 850 mesi te ne hai fatti 2,30. Che madonna, signore. Dovrebbe arrivare. Sei in una Birch Forest, giusto? Ho superato la Birch Forest dopo un fiume. Aspettami di che ti vedo. Adesso l'hai superata. Sono fermo. Ecco. Io non ti vedo. Ma come no? Sei scusa. Sono qua. Ma dove sei scusa? Dove sei? Non ti vedo. Non ti vedo. Non sai nuotare. No, perché io non l'ho mai nuotato. Non so neanche come si nuota. Acqua! Bro. Basta. Perché sono così lento? No. Non sembrava di essere lento. Anche a me, per un attimo va a rallentare. Ma io non ho lo spyglass, peccato. Eh, ce l'ho io nella mia EnderCist, dovevo ancora d'arte, poi ti ho detto... Uno scheletro marrone. E' vero. Doc, la picchio con un cordo. Doc, io volevo fare... Lo sai che se stiamo nella Birch Forest non troveremo mai un... Quando abbiamo finito la stagione 1 di microonde? Quanti mesi fa? Quanti mesi... Uno o due fa. Di più? Sì, anche se effettivamente. Attenzione. Ho tre zucche. Azz, ho sbagliato attacco. Adesso io voglio imparare a saltare fino a lì. Ma scusa, sei già andato via? Dove sei? Sono qua! Ma va... Non scappare l'idraulico! Muoviti! Mario! Fai l'idraulico! Sei un pallito! Doc sa qual è il colmo per un idraulico. Quale? Non capirò il tubo! Ah! E' un ridere! Ah, però sì, maledetti Phantom. Doc è il Phantom e ci attacca. I doc... No, no! Iii! Poi mi vanno lì, forse è meglio che non esco più. Bello come sto già rompendo l'armatura, eh. Oh! Mannaccio! Maglia di morte tua. L'ho beccato! L'ho beccato! E con la... E allora sei un bastard! Bastastali! Andiamo! Questo messaggio qui... E' un messaggio... Questo è un messaggio a crità! Se sei riuscito a leggere lo vuol dire che sei un po' io! Ciao! Ma l'ho letto, Matti! Non serve che lo riscrivi. Dopo esplode la chat. Ma porca putt... Madonna... Iii! Eee! E' via! Vieni qua, respira. Iii! C'è che ti dico io vado via perché ho paura qua? Ti spingo avanti. Ti spingo avanti. Spingi bene! No! Ma qui c'è solo Berge Forest. Che cavolo avevo sulla gamba? Uranio! Uranio? Plutone? Bah! No, io direi o Uranio o Triplo? Sì, l'ho letto che eri... Dai, Emerald... Pronto... Ah, che sai io? Oh, ma no... Ah! Il mio scudo! Adesso mi aspetti che me ne craft uno nuovo. Io c'ho quello di Emerald. Ah, sì, c'è l'ho la cobblestone. La cobblestone per lo scudo? Doc, addio. No! Tu vieni qua perché sennò ti picchio. Dai, aspettami. Se tu chiamerai tu... Ah, ma se scappo non mi puoi picchiare. Ah, intelligente. Wow. Ho sbloccato un nuovo livello di intelligenza. Dai, aspettami. Sai che non c'è effettivamente niente? Mi dai un pezzo di planks? Ah, ho visto una cosa! Ho visto una cosa! E ci vado anche subito. Ciao! Molto in barca? Dov'è che vai, scusa? Quanto evitare? Quanti spaventi mi son preso, più che altro. Andiamo, ciccio! Eh, vai! Ah, il portale del nether. Dove porterà il portale nether? Mi stanno con una... Una mega taiga? Sì, è una mega taiga. No! Erano solo gli alberi che si erano renderizzati male. Che palle! Che cazzo! Ah, me la d'oro! Godo! Oh! Oh, peder falling è qua! Oh, io ho fatto della roba buona! Prima di prenderla ora, spacchiamo l'osidiana. Aspetta! La piangente? Sì, prendela. Sì, uno. Bluff. Ops! L'oro è bruciato. Aiutami a prenderla piangente, dai! Vabbè, che piange, dai, poverina! Anche quando ci mette a spaccarla. Io ho già fai del folle in piatto, supposa. Sui schivaletti mori. Non sono nemmeno incantati. Beh, sì, sì, ciccio. Io direi, paghiamo per... Vila. Tu? Troviamo l'America! No! È un attimo! Ciccio. Mi... 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 Vuoi scendere a vedere questi? Io so. Ah, questi boss! Sì. Vai tu, perché non ci voglia. Oh! Quello che lancia il tridente lo voglio ammazzare. No, l'ho visto prima io, Doc, l'ho visto io. Doc, l'ho visto prima io, quello che ho. Tredente. Che non ha droppato. Ah, vabbè, ovvio. Se tu do il passo, mi chiamiamo. Ti abbassare e mi prendete il dottore. Ah, degli inquilini si sono messi alla nostra barca. Ma si sono inculati la barca, oh! Unbreaking 2, che schifo. Vediamo se ce n'è una formenting. Schifosi. Ho la cappa del tesoro. Poi, però, io mi salvo le coordinate, eh. Non ho trovato neanche un tridente. Aspettami, perché cerchiamo... Cosa ho visto? Cosa vedono i miei occhi? È una barca. Prismarine! Paglielo a Prismarine! Grazie. Vieni qua sopra. Adesso si va, è un secondo. Cerchiamo una canna da pesca con Manny. Ma io sa che non c'è qua. Vabbè, ho una mappa del tesoro, andiamo. Ma il tridente! Vai al portale, vai al portale. Vai al portale. Vai al portale. No. Vai, vai al portale. No, nessuno ha droppato il tridente. No, carne marcia. Possiamo dividere almeno sta roba. Se ti trovi il tridente te lo puoi prendere, ma almeno dividere. Che vuol dire? Cioè, che faccio? Un dente me lo prendo io? Uno te? Un e mezzo? No, altri dente te lo prendi tu, però... Che c'è anche, eh? Che ti dico dove scavare. Di qua? Ma io so dove si scava, eh. Ah, sì, dimmi. Che coordinata? Era il 14... 13? Com'era? 14? Era proprio quello, eh. Dai, dimmi dov'è. Qui. Non è mai lì. Eh, sì. Secondo me... Ecco, avevo ragione. Che cosa c'era? Eh, smeraldi. Eh? Due balle. Questo è il grasso. Lo riprendo perché magari mi serve. Ti lascio la gunpowder. C'erano solo... Totto di ferro, sei... Sto morendooo! Si nota. Mi ha preso a cuore. La tentazione era alta. Doc, ma guardi... Questo non è un... Cosa le sembra quello... Questo? Sotto di me. Vedi quello che c'è sotto di me? È una roba. Andiamo. Doc, premo E e faccio vedere un trucco incredibile. Premi E. Fidati, premi E. Ho premuto E. Dai, fai vedere. Ok, non c'era niente di interessante. Ci siamo andati. Ti ho detto che non c'era niente. Eh, perché tu... Vai in Napoli. Ti falcio la vita. Con la... Falce. Nel senso la falce per il gravi. Spé, spé, spé. Facciamo così. Guarda che bello. Metti la droxword. No, 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 no. F, F, F. Dall'altra fa... Ah, il remo. Adesso è meglio. Ti picchio che ho lo scudo. Ti immagini poter mettere... Avere uno scudo con... Sharkless 5. Quanto fa di danno? Dovrebbe fare... No, eh, boh. Dovrebbe fare 5, tipo. C'è un altro... Cosa degli scifi. Ferma. Frena. C'è un altro... Che trovi? Uno col tridente. L'ammasco. Uh, Lack of the Sea. Guarda, così, così butto via un breaking. No, io eviterei di andare troppo lontano. Allora, forse... Io butto via anche il compasso. Le due classi gode si possono fare i cookie. Eh, che si può fare, boh? E io... Meloni, pozioni. Il bambù. Eh, prendiamo un paio di cose. Il caffè. Chichi di caffè. Il cacao, scusa. Ciccio, ciccio, ciccio. Ehi. Ah, ho preso un pesce. Mi sono rimasti... Mi è rimasto un solo secchio... Un solo secchio da usare. Ho due... Ho tre secchi, in realtà quattro. Io ho preso anche un bucket con... Tieni, va. Cacao. Ho preso il cacao. Questo era quello che c'era. Tengo solo gli smear. No, allora non mi serve. C'è un'abbondanza. Abbatti quest'albero. Quasi quasi che faccio? Le droppo le frecce, tanto se non ho cose... Io voglio prendere... Il cacao. Io l'ho già preso. Prendiamo... Prendi un sapling invece del cacao che è l'intrio. Prendilo tu, no? Ah, te porti il cacao. Sì. Che ho caccato stamattina. Vieni qua. Dove sia... Ma è possibile che questo è Spider-Man? E c'è? Che c'è? Quanto ne prendi? Una decina? No, basta uno. Cioè, te pensi da una sola cosa, ce ne da tre, dai. Capisco che vuoi fare Yammerald Club. Allora tu prendi il bambù. Sì. Sarei anche in realtà più interessato a ottenere. Ma è proprio una giungla piccolina, eh. Ma c'è il di sapling. Aiutami a ottenere dei sapling. Servono quattro sapling. Meloni ho trovato, aspetta. Bravo. Prendi il melone e dopo ci esteriamo i seed. Direttamente prendo i seed. Oh, che ti occupi l'inventario. Dai, su che ho una vaniglia da più di te. Spero come si gioca a Fortnite. Dai, dammi sto cosacca di sapling. Placcia tua. Ma che schifo di roba era questa, scusa. Ma si può chiamare giù? Ah, o si può chiamare pezzo di vegetazione in mezzo a nulla? Al niente. Tanti alberi? Vegetazione alberosa la chiamerei io. Non ho ancora trovato un sapling. Aiutami a trovarlo. Sai che siamo tipo... Vicini a casa? Sì, vicini a casa. No, è la stessa montagna. È impossibile. Quasi uguale. Aspetta, da lontano sembra... È praticamente uguale. Visto da lontano. Se ti avvicini un po', cambia un... No, ok. Adesso c'è un buco qua in mezzo, va bene. Vengo da te, sei la montagna? Sono a... Meno 630. 1070. Ma sei nella cosa o nella giungla? Sono in una pianura. Piccola collina. Proprio è. Sare sulla collina, così ti vengo a prendere. Eh, ma il rendering dell'entità è molto basso. Minecraft. Non si può sapere dove è lo stack, sei. 100%. Dove sei? Io sono sulla collina. Secondo me. Ecti! Vieni. Scusa. Dai fermo, ti do un segnale. Eh, sì, sì. Ah, aspetta, mi sciupo le frecce. C'è Bastiano. Ah, di noi c'è un'altra giungla, però. Andiamo. Brum è bellissima questa parte. Ti ho detto. Ci va fatto... Questa è bellissima. Soprattutto ho... Lissa con le shader che io non ho. Non le ho installate ancora. Abbatti qualche albere e mi aiuti a prendere questi dannati sappli. No, li voglio i seeds e i sappli. Dai, ma che dopo operare... Prenditeli te. Sei proprio inutile. Te vieni in esposizione per prendere bambù, cacao, basta. Io ti ho dato fuoco. Non era neanche previsto di trovare una giungla. Poi, ciccio, puoi smettere di andare avanti. Oh, del cacao. Oh, io ho trovato una giungla di bambù. Ah, sì? E puoi aspettare sulla collina? Aspettami dove si era prima, dai. Torna un po' indietro. Mi ho trovato un'altra... Perch forest. Dove si... Sei una persona da... Da ammazzarsi. Forte. Allora, c'è tutto bravo. Un altro cacao. E allora, dove sei? Ah, e... Dove... Sulla vicina una collina. Dietra, 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 dietra. Ah, eccoti. Aspettiamo un attimo questo, tanto fa veloce. Ma spaccala la mano? No, c'è meno troppo chance. Rompiamolo un po'. Aspetta, è bellissimo. Dai! Rompi tutti i fogli? Sapling! Non è vero. Vabbè, lasciamo. Non lo dropperà, eh. Da vedere questa è l'unica che la droppa. No, da india. Stic... In un otto droppavano molti più sapling. No, no, solo stick droppa. Andiamoci. Mi ricordo anche di un po' E palle. Vabbè, vieni con me. Ah, sfigato. Io ho questi per fare luce. Io ho questi. No, no, di là che c'è una jungle forest. Magari si trova anche il panda. Di là! No, non una jungle forest, è una bamboo forest. Hai preso il bambù? Ovvio. Guarda le galline che belle. Dove le vedi le galline? Scusami. Ho già capito cosa è successo, anche se non ho visto. Questa spada si insanguina troppo spesso. Prendi... No, basta prendere il cacao. Basta, vuoi andare a sennò prendilo. C'è qua un po'... Madonna, lagga tantissimo qua nella giungla, eh. T'ho letteralmente pingato il cacao. Birch. Cioè, scusa, spruce. È alberi di spruce. Che merda. Vabbè, che c'è? Adesso abbiamo più chance di trovare un villaggio, sì. Scusa, è una palla. Io ho delle palle. Scusa. Il porco. È il porco. Volevo dire porco. Dio mio, che cavolo sta succedendo. Invece stavo per dire... Eh, un'altra roba. Qui, lama, doc, la lama. Lama di merda. Oh, lama! Un coglione. Vediamo poi gli advanced. È già finita la cosa. Dell'overworld ci manca... Ci manca... È già finita la spruce. Dell'overworld dobbiamo soltanto andare nel end e zombie doctor che dobbiamo fare. Poi avete tutte le cose di qua. Io che ho già sbloccato l'end a caso. Non ho specificato un motivo. Quanti pioni abbiamo esplorato? Doc, guarda come è birichino questo bambù. Doc, guarda come è birichino il bambù. È un po' birichino. No, ma è storto. Ah, meno. The Rock sul bambù. The Rock spacca il bambù. Già è finita la spruzza, sì. Peccato, dai. È tornata la giungla. Sì, io mi sono rotta anche i coglioni della giungla. Eh, io sto facendo 60 fps. Per me sta laggando tanto. Aspetta, forse qua c'è una cosa. Ho un drop reframe assurdo nella giungla. Posso sapere? Dai, siamo in una forest. Noi il villaggio lo troviamo tra 50 anni. Facciamo prima, cancellare il riforme al mondo. E trovare un villaggio. Probabilmente ci sponeremo dentro. Ah, sei caduto. Scherzo. Stasera non c'è terror. Eh, no, purtroppo. Peccato. Non scriva voluto. Per fortuna, stavo dicendo, non c'è terror. Sennò creperebbe ogni due. Vedremo la chat soltanto di morte. Aspettate un attimo. Aspetti, Doc. No, io non ti aspetto oggi. Doc, la chat. Sono bravo. Hai visto? Sono morto di sus. Sono morto perché sono sus. Aspettati qui. No, sto sus. No, sto scritto. Ma se lo faccio con l'acqua? No, senti questo. Bella bacchetta. Annaggia, sto creeper. L'ho ammazzato ed è morto. Hai visto? Vos deroccato. Madonna, quanto drop di frame. Ma vuole shader. Neanche. Doc. Lagga tantissimo. Doc. Oh, voglio... Laggo tantissimo nella giungla. Vieni qua, andiamo in barca, scusa. Possiamo andare in barca? Possiamo andare in barca? Ah no. Andiamo in barca? No, basta che c'è un'arrozza d'armatura. Basta. La mia mania di saltare nel buono. No, ho mezzo a cuore. Ti vorrei tanto impalare, ma non lo faccio. a smettere dentro i blocchi. Un pappagallo! No! No, il pappagallo è sparito. No, 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 no. Vai giù. Un pappagallo. Un pom. Pappagallo. Possiamo cambiare bioma? Ti va a vedere che cosa c'è giù? Andiamo a vedere cosa c'è dentro la cave. No, io voglio cambiare bioma. Sto troppo da gamba. Eh, dai, andiamo a vedere cosa c'è. Magari si trova nella Lush Cave. Dai, che fa... Ah, qua fa già meglio. Chi ha cambiato bioma? Ho fatto una Lush Caves. Tu sei? Bimbo. Dai, possiamo andare nella caverna di qui? Io me ne vado. Aspettami. Vabbè, Super Mario Cut Time. Mi è stato... Dai, ma è possibile che non si uccide un phantom? Allora, guardo la foresta, 100 fps. Guardo dall'altra parte, 300. Quanto è fatto male, manca? Perché io mi ascappavo nel 300 ovunque io guardi? Perché io sto registrando, sto in live, sto utilizzando un portatile, non lo so. Un portatile del Netflix. Ho la grafica al massimo. Ah, perché io no. Io ho sciocciato al minimo. Dove sei però? Sei di nuovo sparito. Che bimbo speciale? Oh, un cavernone, doc. È possibile che sparisci proprio con il mio percorso? Sei vicino a una pozza di lava? No. Sei nella savana? Sì. Mi raggiungi a... Bene, le fane blu. Mi puoi raggiungere a 1651-2065 che ho trovato una Sports Forest? Dai, basta, non so. Non ce lo voglio, voglio andare avanti, dritto. Ma è dritto. Villaggio, bro, 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 bro. Dammi le tue coordinate. Ah, ecco, non so dove sei andato. Ho trovato degli alberi. Comunque sono stanco di stare. C'è anche lì, Fabbro, doc. È tutto mio. No. Allora è tutto mio. C'erano sette di usidiana e basta. Era una sella, no, eh. Non c'abbiamo una sella. E chiaramente ci serviamo le coordinate, eh. Allora, se ci fosse un altro Fabbro... Qua, niente. È grande questo villaggio, diciamo. È abbastanza grosso. Doc, lei però non ha preso una cosa che non si trova con questo. Sarebbe la campana? Eh, io ho un campanello e tu no. Figato. Sei stato decampanellizzato. Chiamava. Perché mi piecchi, scusa? Ehi, ci c'è nulla, eh. Non c'è più nulla. Io ti mero. Ah no, invece c'è una barca, però non... Però, stavo... Eh, doc, che sfigato, il doc non ha il barco. Eh, io c'ho il barco! C'erò la barca, però non... Non l'hai persa. Doc, 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 venga la barca un attimo. Viene la barca, dai. Stavo salendo la montagna. Dai, ma te ti perdi sempre tutte le cose belle. Che schifo. Ah, tu ti sei perso il fierro e gli smerialdi. Quanti smerialdi? Eh, dieci. Cazzo, ma li puoi dare. Oh, oh. Ma io non ti dà niente. Adesso hai dovuto piglio, ho anche tu il semi, quindi ti vengo a picchiare. Oh, no. Però, perché hai ucciso l'unico pappagallo? Ce n'eran due, però, tu non l'hai visto. Beh, dillo prima, no, con gli... Non è vero. Devo farti soffrire di più. Ce n'eran veramente due. Andiamo sulla vetta della montagna. È quello che sto facendo, doc. Però ho trovato del pane. Vuole anche del... Bello. Eh, però... Eh... Allora, per salire sulla cima... Salve, doc. Vedi che devo bullizzare un po' il doc. Eh, che volessi dire? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Quattro, dai, quattro, dai. Tre cuori. Bello. Piccio, ti conviene toglierti la cosa dalla mano. Perché te oggi la usi. Mi vuoi rianimare prima che non nasce. Aspetta. E togli la statuette dalla mano, che se per me e te ho il rischio di solo. No, così non me la fai, non mi picchi. Eh, oh, ma c'è una swamp. Viro, noi la cercavamo. Che mer... Io mi ammazzo. Basta. Vabbè. Madonna mia. No. Ma capisci che non mi riesci ad ammazzare perché ho la spada più forte? Ma cosa hai te? È sharpness 3. Però va bene sta cosa. Possiamo evitare che mi stia spaccando l'armatura? Però adesso va bene. Aspetta, ti tiro un panino in faccia. E ritiramelo. Hai bisogno pane. No, no, tirami il panino. Mi fai malissimo. Tira. No. Aspetti, doc. Rimangano un attimo così. Le faccio provare il latte. Ah, bello. Buono, vero? Ah, no. Minchia quanto latte bevi, eh. Eh... Là c'è una fonte d'acqua, potremmo salire così. Possiamo non buttarci giù? Ma perché ti serve acqua? Te lo do, scusa. No, c'è il secchio con dentro il pesce. Ma c'è un altro villaggio. No, è sempre lo stesso. No, è lo stesso. Eh, io andrei alla swamp. No, no. Chi scala prima la montagna vince tanti money. Chi scala prima la montagna vince cinque smeraldi. Ma chi è che li mette in palio? Io. E vinci i tuoi stessi smeraldi. Ah, che bravo. Ah, perché te non vieni, non sali. Sì, Leo, però... Non sali, dai, sali. E io scalo, poi vedete. Ho fatto un guay point anche alla palude. Guarda la mia palude. Pallude, con tre P. Quattro allude. Oggi stacco presto, perché domani... Primo perché devo... C'è la rossa. Se devo mettere il portatile in valigia, devo staccare un casino di cavi. Tra periferiche, prendere i cavi giusti. Le alimentazioni del PC. Cuffie, mouse, tastiera. Te lo alimenti il PC? Te lo alimenti il PC? Sì, con l'alito. Lo alimenti il PC. Sei ancora nella swamp? Sì. Ci sto passando in un altro punto. Lo è che bisognerebbe aspettare la notte? Perché se vedebbero le slime. Ma se piove possono spawnare anche di ciò. Ebbene, se è messo, dai, se a piove. Allora... Bello, sto singolo albero di spruce. Doc, dai, non sa dove sono io. Guarda, ti mando uno screenshot, farlo vedere. Puoi far vedere? Sì. Vai, manda. Anzi, vai, Amanda. Manda, manda. Beh, non me lo carica. Eh, te lo manda stile per sbaglio. Facciamo vedere, ragazzi, dov'è il doc. Allora, Discord. Eccolo qua. Io intanto vengo da te, però. E non si vede Discord. Eccolo qua. Guardi un po' dov'è il doc. Eccolo qua. Sono sul punto qui in alto. Se guardi in alto, lo vedi dove sono. Dove ero. Perché adesso sto cercando. No, ma io sono proprio avanti, è andato. Dove... Aspetta, fermati. Io serve... Oh, no. Oh, il reload di Aternos. No.